è l'ora della verità dei sorteggi stamattina abbiamo fatto per finta perché in realtà abbiamo fatti noi li abbiamo sbucinati noi ma adesso i sorteggi sono veri e quindi e quindi niente ora stiamo aspettando vediamo che succede perché qua ragazzi il destino della Roma del Napoli e della Juventus è nelle mani del finto Claudio Ranieri eri quello che ogni volta presenta però non so chi pesca mi sa che pesca Totti non si sa chi pesca potrebbe pescare Francesco Totti se non ho visto male c'è stata proprio la foto sua tutto vestita a chi tal giacca e cravatta dietro le palle le cosiddette palle insomma da estrarre demonizzazione è andata pure a sto video ho capito la smetti? vabbè dai live reaction sorteggi Champions UEFA Champions League diamo il via la sigla a tra poco a tra poco ragazzi dai ma che fanno premio a Totti ma che cavolo non so può darsi ecco perché forse è stata mia tè incredibile ecco perché cioè non lo volevamo manco registrare la premiazione perché non bello mo ho capito tutto ma non l'avevano detto no non lo sapevo non è capita la premiazione ci sono rimasto di sasso perché non me l'aspettavo a parte non me l'aspettavo poi ho sentito pure lui comunque era molto emozionato ha tirato qualche strafaccione dei suoi insomma vabbè perché l'emozione è tanta è in mondo visione comunque la femmina che ha la traduzione del maschio non si può sentire cioè vediamo la femmina la traduzione pare in trans pare ho capito poi dice la demonizzazione ho capito eh mo che c'entra no c'è il 5 e se ce vengo e c'è il venuto e si e ce sta e se ce vengo ecco ah vedi apre le palle pure lui eh si potazzi spettacolo vogliamo ricordare i sorteggi che abbiamo fatto noi delle italiane si si dai ricordiamoli al volo va prima che cominciano Juventus Barcellona Tottenham Apoel Nicosia si Monaco Siviglia Roma Sporting Ernapoli Ernapoli sta qua eccolo Real Madrid Porto Napoli CSKA Zanzara non Musa ma vediamo quello che succede perché si presume che tra poco cominciano a smucirare le paglie hanno messo in sottofondo col keeper defender midfielder quindi premiano i migliori giocatori va bene allora vedi a Buffon quando Bagnali si sta a strarire dice ma guarda questo come parla l'inglese sta spiscicando parole ha fatto bene come ha fatto Ottio è stato piacere italiano insomma manco quello però insomma l'hanno mannato via Baccellona Juventus abbiamo preso pure questo quando sta a ridere sta a ridere che infame che infame ha guardato un buffon solo Totti poteva fare una cosa in genere solo Totti però poteva fare una cosa in genere che infame mamma mia ha truccato le palle secondo me si ha truccato le palle intanto però noi più di qualcuno abbiamo abbiamo beccato le pronostiche mamma mia ragazzi comunque noi non possiamo piacere Barcellona ci hai pensato oh non dobbiamo prendere Barcellona almeno win però possiamo capire nel girone Real Madrid Borussia Dortmund cioè fermete perché Bayern Monaco paia ragazzi oddio questo è il nostro sta arrivando Napoli Zitti Napoli Tottenham Basilea Olimpiakos Olimpiakos Sanderlecht Liverpool Roma Besiktas aiuto aiuto qua è decisivo qua si decide una stagione è già in partenza perché qua è tosta qua è tosta pesca bene e infatti questo lo sta avvertire se Dio mi raccomando pesca bene c'è stata squadra tua qua a mezzo quindi oh ma ancora nel Cernavoli però Sitto un attimo Roma non ti ride Sitti rega C.O.F Shevchenko pesca bene ma non mi ricordo i gironi F.F.F.F. e te valeva e te valeva no oh l'ho detto a me Chelsea atletico Madrid lo sapevo lo sapevo la Francia e mannaggia a te che cosa hai potuto pescare ci potevi mettere Napoli eccolo è il peggiore uno dei peggiori è il gruppo della Juve vanno è andata benissimo alla Juventus e quindi in Napoli fortunato capita del girone quell'altro è andata troppo male a noi ma troppo 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 come al solito come al solito come al solito sempre a Roma è molto ha pescato lui eh scusa Shakhtar Donetsk e Manchester City beh mica gli è andato tanto bene pure a Napoli ho capito che era meglio il girone Rosso cioè che cavolo Kakar eh no Kakar Kakar Barak dai su gruppo C gruppo C dai gruppo C la volemo noi dai che lo scrivo dai che lo scrivo Kakar 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 e dagli l'ho detto dagli eh almeno una morbida eh Karabag eh però oh col terzo posto Europa League Karabag guarda che perdiamo 6 a 0 col Karabag fammi scrivera mamma mia scriva Feyenoord Napoli bel girone Manchester City Napoli e Feyenoord tosta Sporting no Sporting Sporting perché Sporting Sporting Club de Portugano Sporting Sportugauce 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 gruppo D da Juventus a posto allora io direi che la possiamo chiudere qui adesso facciamo il post reaction ovviamente dei gironi però questo lo vedrete sicuramente dopo sicuramente dopo vi diciamo tutto bella ciao raga a b a la a a a a a Grazie a tutti.